oggi finalmente partiamo con buone notizie siamo in prima pagina sul gazzettino nell'edizione nazionale il titolone grande è stop mascherine all'aperto il governo allenta la stretta da venerdì niente più obbligo in tutta italia ma bisognerà averle con sé leggiamo anche il lancio vista la discesa dei contagi il governo allenta la stretta il ministro della salute roberto speranza da venerdì non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all'aperto ma bisognerà sempre portarla con sé e metterla in caso di assembramenti al chiuso l'obbligo invece rimane rispetto allo scenario iniziale che prevedeva di lasciar scadere l'ordinanza in vigore cosa che avrebbe eliminato l'obbligo solo nelle regioni in fascia bianca qualcosa è cambiato la costante discesa dei nuovi casi positivi ieri sono dimezzati rispetto a lunedì di due settimane prima vi ricordate l'abbiamo detto anche sull'amico del popolo l'altro giorno questa cosa www.amicodelpopolo.it ha convinto questa situazione il governo ad ampliare ad avvicinare la fine dell'obbligo a tutta italia anche nelle regioni che hanno un colore diverso dal bianco ora si sta facendo un approfondimento per comprendere se comunque servirà un nuovo provvedimento o se è sufficiente lasciare scadere l'ordinanza in vigore guardate che queste sono ottime notizie perché vuol dire che stiamo veramente uscendo da questa omicron da questa variante omicron contagiosissima dicono che sia stato forse il virus più contagioso tra quelli nella storia dell'uomo bene questo virus come è arrivato così veloce se ne sta andando avendo prodotto una quantità di contagi incredibili purtroppo tanti ricoveri anche tanti morti molte malattie gravi ma meno grazie ai vaccini di quello che hanno fatto le ondate precedenti fatto sta che la cosa importante è che se ne stia andando noi incruciamo le dita si va verso la buona stagione stiamo cauti stiamo attenti contagio in giro ce n'è ancora molto sarebbe veramente un peccato prendersi qualcosa adesso però ci sono ragioni davvero per essere ottimisti veneto dice sempre il gazzettino in prima pagina meno 30 per cento di positivi calo in tutte le province a febbraio la discesa del covid sembra essere partita con il piede giusto nella prima settimana i soggetti attualmente positivi in veneto sono diminuiti del 30 per cento una tendenza che si sta portando dietro anche una riduzione dei ricoveri l'incidenza dei contagi ogni 100.000 abitanti e i tassi di occupazione ospedaliera sono i dati che contano per il cambio di fascia e il governatore è piuttosto ottimista allora l'incidenza dei contagi ancora altissima ma i ricoveri stanno tornando sotto il livello di guardia vedo la situazione in maniera molto positiva ha detto zaia posso dire che stiamo andando verso una zona bianca le curve sono in calo in tutte le province noi ne siamo felicissimi però in questa nostra rassegna stampa di radio piave in blu di martedì 8 febbraio condotta come sempre dai giornalisti dell'amico del popolo e oggi tocca a me luigi guglielmi accompagnarvi nella lettura dei principali temi vi dicevo oggi non si può non aprire una finestra enorme di felicità per questa nostra giovane stefania costantini di cortina un'ampezzana che con il suo compagno di squadra amos mosaner ha portato l'italia in finale nel curling e oggi alle 13 e 30 mi pare poi lo vediamo ci sarà la finale contro la norvegia pechino i titoli la cortinese costantini e mosaner non so se si dice mosaner o mosaner conquistano la finale carling stefania porta l'italia nella storia l'italia nella storia e cortina si riprende un pezzo di storia dopo gli anni delle medaglie olimpiche arrivate in provincia abbiamo dei nomi importanti penso mi viene in mente per primo genio monti insomma qui è dedicata intitolata la pista di bob di cortina ma insomma sapendo che queste olimpiadi di pechino sono le olimpiadi che precedono quelle di cortina quelle di milano cortina cosa c'è di più bello che sperare in un oro oggi dalla nostra bravissima atleta che si sta dimostrando ai livelli più alti nel mondo stefania costantini nella foto in prima pagina che lancia fa scorrere la stone questa pietra che corre sul ghiaccio e il compagno pulisce il percorso della pietra per farla arrivare a destinazione nel modo più corretto bene ieri la con cui la finale loro per loro e l'argento è stata conquistata battendo la svezia dicevamo ma è stata veramente un'affermazione pazzesca perché a dopo il risultato lo rivediamo ma se non sbaglio abbiamo vinto l'italia ha vinto per 8 a 1 contro la svezia quindi per questo capite che c'è anche di che crederci nella bravura di questa nostra squadra italiana di questa costantini e stefania e di amos perché potrebbero veramente regalarci una soddisfazione enorme allora andiamo avanti qui vi ripeto siamo in prima pagina nazionale del gazzettino e sono soddisfazioni insomma allora andando avanti il primo sfoglio vedrete abbastanza consistente dedicato ai alle buone notizie sul covid i positivi calano del 30 per cento pagina 2 zai alle curve scendono andiamo verso il bianco la pagina successiva che è la pagina 3 mascherine all'aperto lo stop è in tutta italia virgolette un segno di speranza e non è una battuta sul cognome del ministro ma veramente vuol dire che se le togliamo all'aperto vuol dire che si ritiene veramente che questa ondata si stia esaurendo bene ci sono cose strane perché in germania per esempio c'è una risalita dei contagi ma insomma noi confidiamo che le previsioni anche dell'istituto dell'università di washington che abbiamo citato anche noi dell'amico del popolo diverse volte che dice che il picco è già passato da un po e veramente ne stiamo uscendo ecco noi speriamo che queste previsioni siano giuste poi c'è sempre in questa pagina beh insomma vi leggo il sommario il governo da venerdì prossimo niente più obbligo anche in zona rossa o arancione vuol dire che all'aperto bisogna avere la mascherina con sé ma non occorre metterla in faccia al chiuso sì invece confermata anche la riapertura delle discoteche la capienza però sarà ridotta della metà ma insomma intanto un altro segno importante non vi leggo nulla degli articoli se volete c'è tantissimo da leggere invece in taglio basso troviamo un articolo su questa pagina che poi costituisce l'apertura del corriere delle alpi vedremo dopo perché perché lo scoop giornalistico l'ha fatto il corriere che si è accorto che i portali delle siti internet delle dei tamponi nel veneto delle ulse venete sono bucati bucabili e chi ha un po di dimestichezza con l'informatica potrebbe andare a vedere i dati di tutti noi una cosa impressionante tanto più ai tempi della privacy zaia dice intollerabile falla nel portale dei tamponi in veneto zaia dice intollerabile ha dato mandato al capo della sanità flor di andare giù durissimo nell'individuazione delle responsabilità e insomma dopo anche la politica interviene su questo tema con le critiche da parte dell'opposizione potete ben immaginare luca zaia sbotta quello che è successo non è tollerabile ho chiesto al direttore generale di azienda zero roberto toniolo di provvedere con immediata verifica di garantire la sicurezza di usare la mano pesante e di avvalersi dei massimi consulenti l'ira del presidente della regione del veneto ha a che fare con la falla scoperta nella piattaforma dedicata alla sorveglianza covid il portale aperto poche settimane fa per far fronte all'enorme numero di persone che avevano bisogno di un tampone attraverso cose difficili è da fare per carità possono accadere anche gli errori però questo è un ambito in cui l'errore non è ammesso attraverso quella piattaforma era possibile prenotare il test e inoltre scaricare i documenti personali di avvenuta guarigione solo che il sito non era adeguatamente protetto chiunque modificando un paio di numeri poteva scaricare i documenti di altri cittadini con indicati i dati anagrafici e anche i dati sanitari personali scoppiato il caso domenica la regione ha ordinato di bloccare la piattaforma fino a quando non sarebbe stata chiusa la falla zaia ieri ha spiegato che non si è trattato di un hacker di un attacco hacker come quello che si era verificato nelle settimane passate ricorderete forse all'ust di padova ma è un bug una falla un errore di chi ha fatto la programmazione del sito quel portale è stato fatto in casa e in fretta non è un assolutamente una giustificazione dicono i vertici di azienda zero tant'è che ho detto vertici sanità veneta che quanto successo è intollerabile ma tengo a precisare che si è trattato di un bug di progettazione non c'è stato a che raggio va bene dunque poi si raccontano un po' altre faccende ripeto qui stavo guardando mi pare che non si dica da nessuna parte sull'azzettino questo è un vizio nostro dei giornalisti di non dare i meriti mediamente ai giornali che si intendono quasi come avversari come concorrenti negativo credo che invece qui andasse detto ma adesso non vorrei aver letto troppo in fretta che questa cosa insomma è stata scoperta dal gruppo del Corriere delle Alpi poi si passa ai 5 stelle a questa incredibile vicenda che è passata per il tribunale l'annullamento di fatto dal punto di vista tecnico insomma dell'elezione di Conte della nomina di Conte a capo dello schieramento pensate un po' insomma adesso vedremo un po' come va torna in campo grillo come sapete allora io vado avanti velocemente perché voglio arrivare alle pagine dello sport sempre sul nazionale adesso ci siamo ve la mostro eccolo qui allora la sezione dello sport si apre a pagina 18 e ha il titolone Pechino 2022 10 Elode nella seconda pagina perché si parla delle medaglie nella prima nella seconda pagina si parla di quello che si attende Italcarling nella storia Constantini e Mosaner scusatemi ancora con questa pronuncia forse sbagliata in semifinale non danno scampo alla Svezia 8 a 1 oggi alle 13.05 cosa avevo detto 13.30 prima no 13.05 appuntamento con la Norvegia per la medaglia d'oro non ci aspettavamo di arrivare fin qui ma adesso ce la giochiamo beh insomma questa è una cosa bellissima veramente perché ripeto viene dopo tantissimi anni quando i nostri atleti bellunesi Cortina in particolare ma non solo sapevano avevano saputo Cortina, Cibiana, Cadore abbiamo avuto atleti bravissimi nella storia capaci di andare a medaglia nelle olimpiadi era uno spettacolo che non si ripeteva da tempo adesso ci siamo o è argento o è oro ma dobbiamo fare il tifo per questi nostri ragazzi Cortina delirio per Stefania tifo in piazza per l'impresa attesa dai tempi di Monti appunto vi dicevo quanto tempo è passato dalle ultime gloriose medaglie oggi dice l'articolo sulla pagina nazionale del gazzettino oggi l'Italia conquisterà una medaglia ai giochi olimpici invernali di Pechino se sarà d'oro o d'argento lo decideranno Stefania Costantini di Cortina d'Ampezzo e il trentino Amos Mosaner gli azzurri del curling specialità doppio misto che si dovranno confrontare con la nazionale della Norvegia di sicuro è intanto la prima medaglia conquistata dal Veneto ieri mattina i due ragazzi italiani hanno giocato l'ultima partita del girone di qualificazione e hanno fatto cappotto, nove vittorie in nove partite sconfitto anche il Canada, patria di questo sport il più popolare con milioni di praticanti abbiamo vinto sul Canada poi hanno conquistato l'accesso alla finale schiantando nella semifinale la Svezia che si è arresa alla settima mano su otto previste quando stava irrimediabilmente perdendo otto a uno nell'altra semifinale la Norvegia ha sconfitto la Gran Bretagna le due perdenti oggi si scontreranno per la medaglia di bronzo cioè Svezia e Gran Bretagna alle 13, 13 e 5 insomma 13 si sarà la sfida per l'oro per il titolo olimpico e a Cortina gli appassionati di curling e tifosi si troveranno in piazza Angelo Di Bona sotto il campanile nel padiglione di legno della musica cuore pulsante della comunità per assistere alla partita su un grande schermo e intanto si sta preparando una festa per rientro a casa di Stefania attesa venerdì ma è una sorpresa e lei non lo deve sapere Luca Zai a presidente della regione Veneto ha già espresso il suo applauso Stefania e Amos nella storia delle olimpiadi e dello sport ci sono già ora sapremo se sarà storia d'oro o d'argento ma già oggi siamo felici e orgogliosi dopo dieci vittorie consecutive e l'ingresso in finale di record questi due ragazzi ne hanno già infilati parecchi perché è la prima volta olimpica del curling di coppia perché è la loro prima volta olimpica perché nessuno alla vigilia pensava fossero così forti a Cortina si trepida per la conquista di un'altra medaglia olimpica un bottino raro per la gente d'Ampezzo una comunità che pure conta decine di atleti azzurri i precedenti dice il proseguo dell'articolo di Marco di Bona le ultime due vittorie le ultime due medaglie le vinse l'Eugenio Monti nel 1968 e furono d'oro nelle gare di Bob A2 e A4 alle olimpiadi di Grenoble sempre Monti con Renzo Alverà e Enrico Girardi conquistò due medaglie d'argento in casa alle olimpiadi del 56 quelle di Cortina furono invece due bronzi ai giochi di Innsbruck 64 quando in equipaggio c'erano Sergio e Gildo Sir Paes poi più nulla sino all'oro di questa ragazza di 22 anni bellissimo quindi noi facciamo il tifo anche noi noi dell'Amico del Popolo e di Radio Piave Forza Stefania e Amos bravissimi ci date anche così un senso di serenità insomma dopo tanti mesi di preoccupazione e di passione siamo alla prima del gazzettino di Belluno il titolo è proprio su questo alle olimpiadi si è accesa una stella una Stefania Constantini in stato di grazia si presenta oggi alle 13 all'appuntamento con la gloria della finale olimpica maxi schermo in centro a Cortina per tifare mentre sui social spopolano le sue giocate per l'oro premio coni di 180.000 euro spopola sui social conquista tutti con bravura e bellezza sorprende perfino i suoi familiari una Stefania Constantini in stato di grazia come il compagno del doppio misto azzurro si presenta oggi alle 13 all'appuntamento con la storia dunque qui l'articolo c'è l'approfondimento grandissimo all'interno di due pagine a 14 anni sognava vorrei diventare atleta olimpica e ce n'è da dire da raccontare finché si vuole Marco Di Bona l'autore dell'approfondimento è bravissimo in questo in alto vedete la foto di Davide Piol il bellunese che è diventato è stato nominato alla guida della piccola industria del Veneto bravo Davide Piol Borgo Valbelluna bene la soluzione per ACC resta il tema dell'occupazione e parla Mauro De Carli segretario provinciale della CGL poi altri titoli su questa prima volantini a scuola non vaccinate i vostri ragazzi i foglietti sono stati lasciati fuori dall'itis segato e come al solito queste cose fanno tutt'altro che bene il futuro del colle si parla del Nevegal parte dagli hotel non vi leggo altri titoli da questa prima vi faccio vedere le due pagine di approfondimento su Stefania Constantini da finale più attesa cortina in piazza per tifare Stefania e nella foto di pagina 3 ci sono lei con la mascherina e a destra Violetta Caldart che è l'allenatrice cadorina di Stefania Constantini quindi bellissimo dunque andando avanti troviamo a scuola i nuovi volantini Novax il ruolo di Davide Piol eletto alla guida della piccola industria come dicevamo il Bostrico il sindaco rassicura non è così cattivo e diffuso e parla De Bernardin di Rocca Pietro che 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 ne ha tantissimo insomma di Bostrico nel suo territorio di più forse ce n'è ancora in comune di Livino a Longo in realtà si tratta un po' di una polemichetta politica no? perché il PD possa mai il capogruppo PD in regione ha un po' puntato il dito contro questo problema e De Bernardin che è sempre allineatissimo con Zaia per ragioni di partito penso anche insomma di vicinanza di fatto insomma e quindi allineatissimo con la regione difende in qualche modo la situazione dice che Bostrico non è poi questo gran problema vabbè staremo a vedere dunque c'è un dossier sul Veneto agricoltura poi si passa a Feltre metà me hanno scusate lavori per la rotonda sarà pronta tra due mesi bene la soluzione per ACC la chiesa di Valle di Cadore chiesa definito il recupero ora la conferenza dei servizi e poi si passa alle pagine di sport e di cultura vi faccio vedere nel pochissimo tempo che mi rimane la prima pagina del Corriere delle Alpi scusate eccoci qui il titolone iniziale come vi dicevo è sulla faccenda della falla informatica falla nei siti ULS Zaia gravissimo ora l'indagine il presidente della regione la partita nelle mani di azienda zero nessuna tolleranza verso errori e negligenze sistema da rivedere la falla denunciata dal nostro giornale dice il Corriere delle Alpi la foto di lato è appunto per i nostri due campioni del curling che oggi si giocano l'oro o l'argento palestra nell'ex Fantuzzi parliamo della caserma di Belluno e caccia ai fondi del PNRR potrebbe essere un'altra soluzione per le scuole io come al solito vi invito ad andare a comprarli questi giornali gli articoli del gazzettino che vi ho un po' annunciato il Corriere delle Alpi acquistate anche l'amico del popolo oggi lo stiamo chiudendo domani lo potete vedere lo potete vedere in anteprima sull'edizione digitale poi vi arriverà a casa in abbonamento è solo acquistando i nostri giornali ci aiutate ci permettete di fare questo nostro lavoro l'appello solito che vi rivolgo oltre all'invito solito anche questo a passare una buona giornata un buon martedì 8 febbraio a tutti da Luigi Guglielmi ciao